Grande Fratello, chi è la famosa attrice che inizia perenne? Ancora due mesi e mezzo ci separano dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ma Alfonso Signorini e il team degli autori della reality stanno lavorando da maggio per mettere insieme il cast che vedremo a settembre. Come di consueto, ci saranno sia concorrenti famosi sia persone comuni. Per quanto riguarda i partecipanti non celebri, le candidature sono aperte sul sito di Endemol e il Grande Fratello sta viaggiando per l'Italia con i casting. Sul fronte dei VIP ci sono novità interessanti. Sembra che Alfonso stia cercando di convincere Vera Gemma a partecipare, dato che in passato ha espresso il desiderio di entrare nella casa. Inoltre, il settimanale chi ha riportato che un volto noto di Temptation Island farà parte del cast. A queste indiscrezioni se ne aggiunge una nuova. Biagio Danelli ha rivelato che una famosa attrice dei Cinepanettoni dovrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Attrice dei Cinepanettoni verso il Grande Fratello, il nome di questa donna inizia perenne. Durante un'intervista con Turchese Baracchi nel programma Turchesando Special, Biagio Danelli ha dichiarato che una celebre attrice dei Cinepanettoni parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello. Ha rivelato solo che il nome della donna inizia con la lettera N. Concludo con una piccola bomba. Una famosa attrice dei Cinepanettoni varcherà alla porta rossa del Grande Fratello a settembre. Doveva già entrare in passato. Posso dire solo che il suo nome inizia perenne, ma non posso aggiungere altro al momento. Ho già detto troppo. Chi potrebbe essere questa attrice? Personalmente, spero che sia Nadia Rinaldi, che ha recitato in almeno due Cinepanettoni ed è una candidata perfetta per un reality come il Grande Fratello. Proprio riguardo al GF VIP, la Rinaldi ha dichiarato un anno fa. Ho partecipato all'Isola dei famosi anni fa ed è stata un'esperienza bellissima. Ora mi piacerebbe fare Pechino Express. Il GF VIP. Ho rischiato di partecipare, ma ho dovuto rifiutare per un altro impegno. Con Alfonso Signorini sono in ottimi rapporti e lui sa che non ho detto no a priori.